Da Appindustria con Fappi Brescia si è tenuto il convegno la certificazione della parità di genere. Quali vantaggi per le imprese? Durante il quale è stato sottoscritto il manifesto per la parità di genere nei panel. Ai nostri microfoni ne parlano Maurizio Casasco, presidente nazionale di Confapi, Pierluigi Cordua, presidente di Appindustria Confapi Brescia, Anna Maria Gandolfi, consigliera di parità della Lombardia e Alice Palumbo, copresidente di IWMD Brescia. Sì, sia per un motivo economico, perché era un motivo sociale, altro che di diritti. Il motivo economico è che l'imprenditoria femminile rappresenta il 41% del PIL italiano, 614 miliardi e la stessa Banca d'Italia ha detto che l'implementazione del lavoro femminile, la tutela del lavoro femminile, sia imprenditoriale, sia di professionisti che sia di lavoratrici, potrebbe aumentare il PIL addirittura lo studio recente di Banca d'Italia del 7%. Questo dal punto di vista economico. Dal punto di vista sociale io credo che uno Stato veramente libero, come noi ci proponiamo di rappresentare, debba garantire gli stessi diritti delle donne, soprattutto delle donne lavoratrici, in termini di maternità. Siamo al penultimo posto in Europa per crescita demografica. La natalità è un aspetto importante, non dal punto di vista solamente cattolico, come io sono, ma dal punto di vista sociale ed economico. Dobbiamo pensare al futuro, le pensioni noi le risolveremo con certe scelte tecniche oggi, ma soprattutto si risolvono con un aumento della natalità. La nostra vita aumenta di tre ore al giorno, quindi non possiamo permetterci di averci troppi anziani, dovendo prepararci giustamente di loro, ma anche dal punto di vista sociale saranno i giovani e quindi la natalità è un aspetto importantissimo dal punto di vista sociale, ma soprattutto economico. Dobbiamo tutelare la famiglia, perché la famiglia è il vero welfare e la famiglia è rappresentata essenzialmente dalle donne e dalle madri, dalle nonne. Dobbiamo pensare a un lavoro che dia la possibilità alle donne di tornare a lavorare quando fanno i figli. Il primo figlio delle donne italiane è cinque anni dopo rispetto a quelle francesi. Infatti i francesi hanno creato tutta una serie di interventi a favore, voglio dire, della natalità e delle donne. Dal punto di vista lavorativo una donna che fa dei figli deve avere diritto alla pensione, magari prende il tempo determinato, ma non solamente per quanto riguarda gli anni di lavoro a tempo determinato per crescere i figli, ma deve averlo anche dal punto di vista dei contributi. Questo è un sistema veramente sociale che coniuga il sistema economico da quello sociale. Noi, insieme a Confapi, ma anche io sono presidente del medico della Federazione Microsportiva Italiana, abbiamo garantito da sempre gli stessi diritti alle donne, sia nella partecipazione nei consigli di amministrazione, sia nella vita all'interno della realtà lavorativa. Perché una donna che lascia il posto di lavoro per dedicarsi ai figli non deve essere alienata nel tempo di assenza. Quindi c'è tutto un sistema di struttura sociale a tutela anche del sistema economico e del sistema paese che deve garantire il lavoro delle donne come diritto, ma soprattutto come un fatto concreto per la nostra economia e per la nostra società. Economia e società viaggiano di pari passo e quindi non è un tema strategico, è un tema di visione, è un tema prospettico, è un tema di serietà e di credibilità per un paese democratico e veramente libero. Non deve tradursi in parole, ma in opportunità creando delle condizioni a 360 gradi, dagli asili nido alla scuola, la possibilità che la scuola possa essere ad esempio a tempo pieno. E questo interviene anche il concetto di scuola dove deve esserci un diritto alla libera educazione scolastica con un costo standard, quindi con la possibilità di dare alle famiglie una quota economica per la libertà di scegliere la scuola in funzione non solamente di una libertà educativa, ma anche delle opportunità che una scuola rispetto all'altra possa dare, ad esempio nel tempo pieno, attraverso le opportunità che possono dare ai figli e quindi una miglior crescita economica e sociale dell'intero paese. Oggi sono due i momenti importanti per la giornata. La prima è la sottoscrizione da parte della nostra associazione e siamo la prima associazione datoriale sul territorio a firmare questo manifesto con EVUMD, che è un network internazionale che promuove lo scambio tra imprenditrici e esponenti della cultura a livello internazionale. La seconda parte invece del nostro convegno entrerà un po' più nel tecnico e parlerà della certificazione di parità di genere che a nostro avviso è importantissimo per le imprese perché apre tutta una serie di possibilità in termini di business e va anche incontro a uno dei punti dell'agenda 2030 dell'ONU. Assolutamente va risottolineata. Il contesto è un contesto molto ampio che prende più punti, parliamo per esempio dal punto di vista sociale, ma ci sono anche tutta una serie di opportunità che si aprono per le aziende certificate. Vedi per esempio dei punteggi maggiori per la partecipazione a tutta una serie di bandi. Sì, sappiamo, noi nella nostra associazione abbiamo tante imprenditrici, avremo dei relatori di spicco che avranno modo di parlare e entrare un po' nel meccanismo specifico della certificazione di parità di genere. È una rappresentanza importante della nostra associazione, abbiamo l'Emanuela Colosio che ha aiutato come presidente del gruppo donne nell'organizzazione dell'evento, ma avremo anche degli ospiti di rilievo, il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco che interverrà, avremo la presidente di VUMD Alice Palumbo, Anna Maria Gandolfi consigliera delle pari opportunità di regione Lombardia, Nina Ferrari consigliera di pari opportunità della provincia di Brescia e poi ci tengo a sottolineare una risorsa interna, l'avvocato Simona Fontana che entrerà nel vivo dal punto di vista tecnico proprio per la certificazione di parità di genere. Allora, il primo momento la sottoscrizione del progetto Equal Panel dell'AWND già sottoscritto in regione Lombardia con la consigliera Simona Tironi e con la presidente del consiglio pari opportunità di regione Letizia Caccavale. Prima App Industria a Brescia che sottoscrive questo manifesto Equal Panel. Il secondo momento è per la certificazione della parità di genere. Anche qui devo fare i complimenti a App Industria perché è la prima associazione di categoria che parla della certificazione della parità di genere che non vuole essere un'ulteriore certificazione così all'acqua di rose ma vuole raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 ossia aumentare l'occupazione femminile che ancora in Italia siamo il fanalino di coda in Europa. dovevamo raggiungere nel 2020 il 60% di donne impegnate nel mondo del lavoro purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Non al nord dove abbiamo picchi di 60-65% di presenze di donne nel mondo del lavoro ma purtroppo nel sud dove abbiamo ancora il 70% di donne che non lavorano. Quindi la certificazione della parità di genere vuole aiutare le imprese in questo percorso di crescita, di consapevolezza nell'assunzione di donne e il governo e Regione Lombardia aiuterà queste aziende che vogliono iniziare questo percorso. Sono Alice Palumbo e oggi ho l'onore di rappresentare come copresidente Ida Bolendi Brescia che è la delegazione locale di un network internazionale che dal 1984 lotta per i diritti delle donne. Oggi è un giorno importantissimo perché Ape Industria di Brescia è la prima associazione che firma con noi il manifesto Equal Panel. Equal Panel è un manifesto in cui noi crediamo molto, il gruppo tecnico di Double Indie Italia ci ha lavorato molto. L'obiettivo finale è sempre ovviamente favorire la leadership femminile, lavorare per un equilibrio di genere non solo femminile, dobbiamo essere, voglio dire, giustamente inclusivi, anche se la predominanza delle associate è sicuramente donna. Il manifesto è un manifesto in sette punti pensato proprio per intervenire su quelli che sono i panel dei relatori nei convegni italiani, nei seminari, per fare in modo che ci sia visibilità delle donne e un buon equilibrio di genere.